Ciao ragazze, oggi vi parlerò di questi kit di stamping per realizzare delle nail art molto semplici e molto veloci sulle vostre unghie. Il nostro kit sarà composto da una spatolina, un timbrino ed una placchetta metallica come questa che ha inciso diverse nail art. Ricordatevi sempre di levare la pellicola protettiva che sta in superficie perché alcune marche non lo specificano e potreste trovare a tribolarvi un po' perché dite come mai non mi viene il disegno? Perché è veramente proprio trasparente, tagliata a filo del metallo che è molto difficile da capire di levarla se non ci sono indicazioni scritte. Comunque, prendiamo uno smaltino per stamping, io ho preso questo qua della Conad al Cosmoprof, anche se mi sono dimenticata di dirlo nel video sui miei acquisti pazzi quel giorno, ho acquistato anche questo. Prendiamo la nostra placchettina metallica, scegliamo un disegnino e andiamo ad applicare sopra lo smaltino della Conad. A questo punto prendete la vostra spatolina e tirate lo smalto in eccesso, prendete il vostro timbrino e premetelo sul disegno, vedete? Prendete due farfalline, a questo punto lo posizionate sull'unghia, ecco qua, e così avete una nail art molto carina e molto veloce soprattutto. In meno di due minuti ho decorato tutte le mie unghiette, come potete vedere ho fatto dei fiorellini, delle farfalline, farfalline e fiori, fiori e una cornicetta, sembra del pizzetto e delle stelline. Avete visto com'è stato semplice e veloce? Adesso non avete più scuse, buona nail art a tutte, ciao! Grazie a tutti!